Bentornati! Oggi vogliamo vedere insieme la prima maglia del Milan per la stagione 22-23 in versione player, quella indossata dai calciatori. Ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale per far crescere questo canale ed avere altre recensioni in futuro. Grazie, ciao! La maglia home del Milan 22-23 è ovviamente a strisce verticali, come da tradizione, ma poste in maniera diversa rispetto a quelle dell'ultima annata. Il colore predominante è il nero anziché il rosso, come nella stagione scorsa. Le strisce tornano alla loro classica forma e dimensioni omogenea, mentre nell'ultima fortunata annata avevano consistenze diverse, passando dimensioni più sottili ad altre maggiormente allargate. Le bande non prendono forma su tutta la maglia, bensì partono dal petto e terminano qualche centimetro prima del fondo della divisa, mentre il nero resta come base evidente. Il dettaglio che fa impazzire i tifosi è il lato della manica tricolore, con il richiamo alla bandiera dell'Italia, un'idea di puma che sarebbe stata adottata a prescindere dalla vittoria dello scudetto. Bella! Il Milan non è la mia squadra del cuore italiana, però questa maglia devo dire che è veramente fatta molto bene. Peraltro di uno dei miei giocatori preferiti, Teo Hernandez. Nella mia personalissima classifica questa prende quattro stelle fatta veramente bene, con tutte le rifiniture giuste, con questo tessuto veramente bello nella versione player. Qui in alto vedete il costo, molto basso se si considera che comprende le spese di spedizione e peraltro ha una consegna veramente molto veloce. Questa è arrivata in 14 giorni, dall'ordine alla consegna è arrivata in 14 giorni. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia, quindi a questo punto sta a voi. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità, ci vediamo prossimamente per altre recensioni. Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.